Amici buongiorno e bentornati sul mio canale il signor Franz, indovinate un po'? La risposta giusta è fosforilazione ossidativa, chi l'ha indovinato è molto bravo, chi non l'ha indovinato vabbè non fa niente Sono qui per inaugurare una nuova rubrica, l'altra perché a me piace fare le rubriche, non è che faccio i video, faccio le rubriche Quindi ogni video c'è una rubrica nuova, questa è la rubrica degli spacchettamenti come i veri youtubers Perché mi è arrivato a casa OneUpBox, che cos'è OneUpBox? Il successore del super pasqualore diciamo Ogni mese esce una nuova OneUpBox, è un servizio di abbonamento che lancia questo sito OneUpBox Ed ogni mese ti invia una scatola a tema, quindi c'è il tema miniature, il tema forza, il tema super cose La scatola contiene tutti gli oggetti geek, nerdosi, che riguardano quell'argomento Ah, attenzione, perché abbiamo anche la camera questa qua Ehi! Molto emozionato Ehi! Le tartarune ninja! Allora, la maglietta mi sembra molto, mazza che bello Vediamo questa maglietta com'è Bella! Bella! È una maglietta con Batman, Superman e Wonder Woman Mazza bello, un po' contento Poi c'è Signori Raffaello Perché adesso sta uscendo tartarune ninja fuori dall'ombra Che è il secondo capitolo del film di Michael Bay Ninja Turtles Poi c'è Una spilla di Batman Che non so che ci farò, però vabbè Poi c'è un pin Una spillina Che vabbè Una spilla che ho scritto con la box Per la pubblicità loro Poi c'è un Un laccio Emostatico No, non lo so cos'è Un laccio Ah, sono lacci per le scarpe Perché c'è sopra? Che vuol dire? Vabbè Non saprei Poi c'è Oh, c'è un taccuino Attenzione Se non volete perdervi neanche una cosa Scrivete sul taccuino E' importante Dei post-it Sono dei In realtà sono dei post-it Che vabbè Fanno comodi i post-it Ah, e poi ci dice che il tema di questo mese è Versus In realtà è la maglietta la cosa più figa La cosa carina è che se volete fare l'abbonamento a questa cosa Utilizzando il codice AWESOME Vi costa 9 dollari e 90 Più shipping Che non so quant'è Mi ha dimanato dove abitate Se abitate in In Umbria E' più difficile perché stanno le strade sterrate Quindi utilizzando il codice AWESOME Il primo mese è a 9 dollari e 90 Più shipping Mentre dai mesi successivi 13 dollari e basta In l'inscrizione vi lascio il sito Con il link Con il codice Con le cose Così vi faccio vedere lo sconto Poi basta Ogni mese mi mandano questa roba E ogni mese faccio un guidetto E lo spacchetto che mi piace Il video della fotografia Lo faccio Lo devo fare Lo sto facendo Farò anche un tema nuovo Ci sono un sacco di cose che devo fare Però onestamente sto veramente pieno di lavoro fino a qua E settimana prossima Non so se riesco a fare tutte le cose che voglio fare Quello della fotografia sarà sulle lenti Quindi sugli obiettivi Sulle cose Sue sfocature Voglio tutto sfocato Io vi saluto Vado a mettere le scarpe Con dei lacci che non so Che roba è Vabbè Ciao